ciao ragazzi bentornati sul nostro canale youtube ipervenom 3 finalmente è arrivata è scesa sulla terra diciamo scesa perché sembra proprio scesa da marte arriva da un altro pianeta e vediamo insieme le novità di questa fantastica fantastica evoluzione allora per prima cosa abbiamo la stessa scarpa la phantom sia bassa che alta quindi sia col collar che senza stessi materiali la differenza naturalmente che il collar in flyknit quindi nella versione alta che qui non troviamo appunto nella versione bassa allora il flyknit è creato con tre metri di cavo quindi il triplo rispetto rispetto al passato e si va ad unire la questa struttura 3d in poron che permette di avere un maggiore controllo di palla quindi un controllo di palla più preciso e di rilasciare maggiore energia al momento del calcio appunto è una struttura 3d che impatta col pallone e restituisce energia per un maggiore precisione e forza come vedete rimane decentrata l'allacciatura per permettere di avere una zona di calcio sempre più ampia e a livello grafico la prima uscita quindi per venom 3 prima colorazione accattivante in campo si vedrà tantissimo questo verde fluo con swoosh nike e questo arancione all'interno sempre con swoosh in nero scritta acc e flyknit all'interno grandissima novità abbiamo anche sulla suola suola che è stata studiata dagli ingegneri di nike per avere ancora maggiore trazione la suola hyperactive ed appunto creata per avere maggiore trazione nei cambi di direzione in zona goal abbiamo una struttura all'interno esagonale che ci permette dove abbiamo la zona in maggiore carico di poter ruotare far ruotare il piede d'appoggio al momento del calcio mentre una zona di trazione all'esterno che ci dà la possibilità di avere ancora maggiore rapidità e maggiore grip sul terreno qui vediamo una suola fg naturalmente come sapete su calcio shop troverete anche gli altri piatti suola grande novità troviamo anche all'interno il nike grip la soletta ve la faccio vedere nella suola della phantom bassa che si vede si vede meglio una soletta che è stata scavata con questi queste queste fasce in orizzontale che va ad unirsi a fare contrasto sulla suola stessa in questo modo la soletta la suola non si muoverà in modo fastidioso quando quando saremo in campo per avere un maggiore grip vedete che va a incastrarsi perfettamente andiamo a vedere la risposta in campo della nuova iperveno 3 abbiamo provato la scarpa le risposte sono quelle che ci aspettavamo una scarpa che arriva da un altro pianeta permette di avere un grandissimo grip la rapidità che offre in in zona goal è incredibile il tocco è aumentato rispetto alla precedente edizione notevolmente e la zona di calcio è pazzesca ricordate che su calcio shop troverete tutti i piatti suola e anche i takedown del prodotto iscrivetevi al nostro canale e rimanete collegati sempre su calcioshop.it